Io mi chiamo Antonio Mazzucco, sono il responsabile di produzione alla Saos e di quasi tutti i cantieri d'Italia. Il nostro nome è Bertram Pfeiffer, sono un specialista globale per l'applicazione di tecnologie di Sleurrivolte con Liebherr Wagnanzing. Ora siamo in Italia, Naples, in fronte di l'HS8130, il nostro multiplo di flaggierza. Questa macchina è la perfetta macchina per l'hydrocotter, perché abbiamo un forte l'Empere, con 570 kW. Abbiamo meno emissioni, meno ruota, questo è perfetto per l'urbanità di lavorare. L'Empere può aiutare tutto per l'Empere tecnologie di Sleurrivolte, inoltre i grattori, i hydrocotter, i disendori, anche i mixers, eccetera. Abbiamo anche applicazioni e ingegneri, che possono aiutare i nostri clienti con tutte le difficoltà tecniche. Liebherr ha la possibilità di customizzare le macchine per le necessità dei nostri clienti, perché ogni lavoro è diverso, soprattutto nelle tecnologie di Sleurrivolte. Attualmente stiamo lavorando sul cantiere di Verona, l'alta velocità, il cantiere di Irpinia, sempre l'alta velocità, la Napoli Bari, il cantiere di Napoli dove siamo adesso, che è un cantiere della stazione metropolitana di Parco San Paolo, ha uno spessore sempre di 1,20 m per 2,80 m, profondità massima 52 m, per un totale di 134 pannelli. Stiamo utilizzando la fresa LIBER sull'8120 e l'HS855 con la benna sempre LIBER. Il mio nome è Florian Gabriel, sono il produttore del produttore dell'Equipmento di Nenzing. Abbiamo in fronte del nostro trenche cutter e qui vediamo il nostro gearboxe, dove abbiamo offerto un nuovo business model che è chiamato 4C Power. È un modello di Pay-Per-Use, dove il cliente è pagato per la lavorazione del gearbox. L'advantaggio per il cliente è che il cliente ha costi, non sorpresi in le costi, e questa fia è tutta tutta le costi riguardo il gearboxe. Quindi, overhauling costi, servizi costi e transporti costi sono inclusi in questa fia. Inoltre, abbiamo la possibilità di monitorare il gearboxe via il nostro modem. Quindi, siamo sempre collegati via le dati del gearboxe. Questo permette di reagire in avanti. Inoltre, abbiamo trovato una possibilità di perdita, prima che ci si tratta. Inoltre, possiamo reagire. Inoltre, possiamo cambiare il gearboxe in avanti e ridurare il costo dell'overhauling, più aumentare il tempo in l'attività.